La sua candidatura invece alle europee con la lista libertà, ci presenta un po' le priorità di questa lista? Una politica libera proprio da questi conflitti di interesse, da queste lobby di potere che praticamente hanno sostituito la politica con dei burattini, con dei burattini finanziati che eseguono gli ordini e che poi attuano dei piani dell'agenda, come l'agenda 2030, questa agenda green che ci impone delle direttive che i cittadini non vogliono, io lo dico da professionista, prima si parliato di burocrazia, io dopo 4 anni di partita IVA, ho aperto da giovane partita IVA, veramente mi viene voglia di chiuderla, perché un ingegnere oggi è diventato un burocrate, come anche col 110, ti fanno passare la voglia di lavorare e queste sono tutte delle direttive che servono semplicemente a occuparsi di cose che i cittadini vogliono occuparsi di, vogliono risposte sulla salute, sui servizi al cittadino, vogliono pagare meno tasse, vogliono avere meno burocrazia, invece qua fanno tutto l'opposto, l'Unione Europea veramente ci impone queste direttive come la Bolkestein che adesso il Consiglio di Stato con l'ultima sentenza ha detto chiaramente che bisogna togliere le concessioni agli ambulanti, ai balneari, c'è anche il problema dei taxisti, quindi questo è uno degli obiettivi della nostra azione politica, quindi portare la libertà politica dentro le istituzioni.